Ciao a tutti, questo video è un video inutile, avevo voglia di condividere con gli amici di Youtube del forum, insomma un'attesa che sto vivendo, dunque momenti un po' così difficili come sono un po' per tutti, economici eccetera, mi hanno obbligato in qualche modo a vendere tutto quello che avevo di superfluo, sia nel mondo dello svacuo appunto che in altri campi e sono rimasto praticamente senza niente, ho un ego twist della Joytech e un... chiuso con Cartom, Cartom Medici Tank, l'Atom Eco-C a volte in Dripping, l'Atom Eco-C dell'Ovale a volte in Dripping appunto, un po' col Phantom e sono rimasto senza Vox perché ho diciamo in arrivo, insomma si spera in arrivo un giocatore nuovo che sto pensando e sviluppando insieme a Damiano. L'altra cosa, ora non so quanto ci metterà da arrivare, ma insomma spero che sia una cosa piuttosto breve. L'altra cosa che ho intenzione di comprare con enormi sacrifici, lo stesso è lo Chalice 2, appena riuscirò a metterci la mano di sopra ma anche grazie all'amico, all'amico Mato Teseo che mi sta facendo un po' da cicerone in questo speriamo breve acquisto e sono rimasto appunto senza Vox e io sono... e senza altro, tra l'altro, e io sono un Voxano e quindi mi sono fatto prestare da mio padre una vecchia Zippo Box. Questa sarebbe proprio la sua. E' la box che avevamo progettato con altri congini 1976, tanto tempo fa. E' una box anomala, nel senso che si apre da sotto, si carica sia liquido che batteria da sotto e ha un pulsante, diciamo un meccanico tipo real, nel senso che premendolo va a toccare il contatto per poter aprire il contatto della batteria, non a finestra dello sconco ovviamente ma questo tastino che va a comprimere la boccetta e far salire il liquido. Ora i più vecchi del forum non se la ricorderanno sicuramente. E niente, volevo farvi vedere che anche a distanza di tanti anni questa box va ancora. E bene. Adesso ho montato su una 18650 VMR che è tutta una strata perché mi sarà tutta la guaina un po' in fondo e un Atom Joytec 510 da 1,5. e anche a distanza di tanti anni Niente. Tutto qui. Il azippo va ancora bene. Grazie mio padre che me l'ha prestata. E... Spero che la nuova box arrivi di presto. E... Sarà mia premura fare una recensione come il mio solito, più dettagliata sicuramente di questo, e farvela vedere in tutte le sue parti. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao.